Che pena ragazzi, che pena davvero. È finita poco fa Sampdoria e Torino, finisce 1-0 per la Samp, una pena assurda. Siamo andati oltre la decenza oggi, secondo me, veramente. Una partita che era un pareggio annunciato, la Sampdoria non vinceva da un mese. Una Sampdoria che non ha fatto praticamente nulla durante tutta la partita per vincere questa partita. Penso che l'abbiano vinta anche senza sudare, nel senso che non avevano, secondo me, neanche le magliette sudate. Quindi questo va ancora di più contro la nostra prestazione, che è stata indecorosa. Abbiamo, sì, fatto possesso palla, inutile. Avremmo potuto giocare per tre giorni, penso. Non l'avremmo mai buttata dentro. Abbiamo veramente fatto il nulla. Il nulla, nulla assoluto. Loro hanno fatto due tiri in porta. Un gol e basta. Il secondo tempo, invece, non si è praticamente giocato. Noi abbiamo continuato a giocare, a giocare, a passarci la palla a centrocampo. Arrivavamo la tre quarti, facevamo cross telefonati. Audero la prendeva e finivano lì le nostre sortite offensive. Questa è stata la partita. Un po' il leitmotiv della partita, possiamo riassumerlo tutto qua. Noi che proviamo cross telefonati dalla tre quarti o dal fondo, e nessuno di questi va a buon fine. Ma io dico, Ansaldi, Voivoda, perché non andate a nascondervi? Perché un giocatore in Serie A che non riesca a fare un cross è veramente indecente. È veramente indecente una persona del genere. Ma non vi vergognate? Ma non vi fate un po' di schifo? Poi Bianco. Bianco una sciagura. Bianco veramente una sciagura, tralasciando il fatto che sul gol si fa uccellare come neanche in terza categoria. Ma lì sbagliano anche Izzo e Voivoda, prima che si fanno fregare e non scalano. Lasciano praticamente ad augello tutto lo spazio possibile e immaginabile. Bianco pensa bene di cadere come un cretino. Fa assolutamente passare lui. Lascia per Gabbiadini. Gabbiadini appoggia Candreva perché noi la tassa Marcioni contro i ciclisti dobbiamo sempre, sempre, sempre pagarla. Che sia Gabbiadini, che sia Candreva. Un Marcioni di questi ci deve sempre segnare. Sempre. Se no non siamo felici. Penso che siamo l'unica squadra che faccia segnare questi due Marcioni e ce la facciamo sempre. Sempre, ogni cazzo di volta che li incontriamo. Una roba assurda. Non segnano mai questi qui. Contro di noi, sempre. Tassa Marcioni. Appena incontriamo la Samp dobbiamo pagarla. Benissimo. Ma lasciamo stare. Andiamo avanti. Non è successo praticamente nulla. Nel senso, continui lanci. Io ho visto solo... Cioè, tutta la partita possiamo tradurla in lanci dalla tre quarti. Cross dalla tre quarti. Che a Udero para. Questa è stata la partita. Una partita totalmente inutile. Una partita da 0-0 che si poteva benissimo incanalare verso lo 0-0. Avresti preso un punticino. Avresti allungato un minimo sul Cagliari. Invece no. Tutte le volte che giochiamo comunque col 5-3-2 non facciamo un cazzo. Siamo totalmente inutili. inoffensivi in attacco. Ma io dico, dopo 6-7 volte che i cross dalla tre quarti vanno sempre tra le braccia del portiere avversario. Ma non ti viene il dubbio che magari devi provare qualcos'altro. Anche tu, Nicola. Cioè, magari giocare palla a terra? No? Per dire? No. Continuiamo con questi cross inutili. Continuiamo. Belotti inguardabile. Che ve lo dico a fare. Non doveva assolutamente uscire Sanabria, secondo me, per fare entrare Zaza. Ma doveva uscire Belotti. C'era sicuramente un rigore anche. Ma no, il bar. Per noi il bar non esiste. Quando c'è qualcosa da darci a favore, il bar lo spengono probabilmente. L'hanno detto tutti, eh. Non ho iniziato a dire che non c'era il calcio di rigore perché l'hanno detto tutti. Nello studio di Sky, la prima cosa che hanno detto è che c'era un rigore per il Torino. Quindi, non mi fate incazzare oggi. Poi. Andiamo avanti. Ben poco altro da dire. Ben poco altro da dire perché la partita si traduce tutta lì. Si riassume tutta lì. Ragazzi, sono veramente arrabbiato perché oggi non era da perdere. Soprattutto in considerazione del fatto che Benevento e Spezia hanno vinto. Quindi diventa una lotta a due fra Cagliari e Torino. Era quello che non volevo che si verificasse. Invece si verificherà. E siamo sicuri che la prenderemo nel culo alla fine noi. Sono certo di questo perché non ci dice mai bene una volta. Quindi prepariamoci alla Serie B perché sarà la prossima categoria del Torino nel prossimo anno. Di questo non ne sono certo, ne sono strasicuro. E niente, è tutto qua. E mi preoccupa molto la B con Cairo. L'ho sempre detto, lo ribadisco. È assurdo quello che è successo dal gennaio 2020 ad oggi. E continua a succedere. Quindi non ho veramente più parole. Avrei solo insulti verso tutti. Verso Voivoda, che è stato inguardabile. Verso Verdi, che tutte le volte che gioca è impresentabile. Verso Ansaldi, verso tutti. Verso tutti. Non salvo nessuno oggi. Non salvo nessuno, assolutamente. Quindi, bene così. Abbiamo perso un'altra partita. Cioè, una partita che si poteva e si doveva assolutamente riuscire comunque a portare a casa qualcosa. Non ce la facciamo. Ma io voglio dire, no? Quando incontri Spezia, Crotone, Samp. Samp vince a batte, come questa Samp che non vinceva da un mese. Che subiva, non aveva mai... Cioè, ha sempre subito gol, tranne in due occasioni. In 28 partite. Ovviamente. Era ovvio che non gli avremmo segnato, no? Era ovvio. Cioè, dico, quando non riesci a fare punti contro queste squadre, no? Ma come pensi di salvarti? Come pensi di poter mantenere la categoria? Ma non puoi. Non puoi, assolutamente. Quindi, è così. Spero di fare poi un'analisi a freddo nei prossimi giorni. Magari già domani, non lo so. Però comunque, adesso sono veramente arrabbiato. Comunque, ragazzi, una comunicazione importante. Giovedì 1 aprile ci sarà la seconda puntata dello YouTube Toro Show. Con Engie Ingradata, Lorenzo Acuto, Darren 4. L'ospite di questa serata sarà Enea Benedetto. Che è dell'accordata Taurinorum. Quindi, un personaggio comunque importante. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un personaggio di rilievo. Sarà lui il personaggio. E andremo comunque in live, sia sul canale di Darren 4, sia sul canale di Lorenzo Acuto. E anche sulla pagina Facebook del Toro Siamo Noi. Il Toro Siamo Noi Forum. Quindi, una pagina Facebook comunque molto molto seguita. E niente. Quindi, lì si potrà commentare durante la live. Quindi, ci si potrà scambiare molte molte domande. Tutto quello che volete, considerazioni. Le faremo e ci sarà probabilmente anche la possibilità di fare direttamente a Enea Benedetto le domande. Quindi, secondo me, vale la pena assistere. E niente, ragazzi. Tutto qua. Io vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Grazie, ciao. Grazie. Grazie.